e ciao ragazzi e benvenuti in posto a noi sono alexandri e ben tornati oggi vuoi fare un bellissimo video come potete vedere dalla mia schermata sul computer se guardate un attimino devo spostarlo un po' perché non si vedono bene tutte le mie caselle eccoli qua potete vedere in alto a sinistra in alto tutto in sinistra a sinistra in sinistra a sinistra potete vedere un gioco nuovo beh pure dalla schermata da tutto potete vedere che ho cambiato computer è da un mese che non faccio video da un mese ma come si può e non lo so allora ho deciso di portarmene uno nuovo perché pure non si possono fare non si possono non fare i video da un mese se sono youtuber voi non lo potete vedere ma io adesso tutto è diventato bianco e nero vabbè come potete vedere qua c'è il mio gioco questo qua che ora sto puntando con il mouse che è un po' laggato nel computer sì però a me non si vede laggato solo da voi per sbaglio è bene percorso hello neighbor parentesi c due punti stecca programmi parentesi apri parentesi per 86 chiudi parentesi stecca hello neighbor chiudi parentesi fichissimo ragazzi però mi dispiace ancora non ve lo posso portare in questo canale non ve lo posso portare dovete aspettare un nuovo canale che penso che sia tra oh mio dio penso che siano 1 o 2 anni sono un po' troppi 1 o 2 anni vero raga eh però mi dispiace ma hello neighbor in questo canale lo posso non perdiamo tempo perché voi lo sapete io posso fare il video soltanto fino a 15 minuti e già siamo a 2 minuti e 20 secondi quindi partiamo ehm roblox che vedete sì tanto ormai stiamo facendo video solo su roblox roblox a parte un video dire di come si chiamava maledizione ma mi scordo sempre i video che faccio royal ah sì ok royal revolve 2 per chi non l'ha visto non se lo vado a perdere cioè non perdetevi quel video perché è bellissimo si chiama per chi lo vorrebbe vedere si chiama stanza la stanza di bre di bemo che va beh il nome non è difficile da ricordare due è impossibile infatti non da riuscire a fare andiamo a vedere già il break potete vedere che cambia dall'immagine c'è un treno perché ora si può guidare anche il treno in quel gioco e non lo vuoi fare già il break ho fatto già un video l'ultimo che ho fatto dove si chiama penso che si chiama ma perché vi dico sempre i nomi dei miei video mi arrestano sempre mi arrestano sempre eh mi arrestano sempre eh non rifiudo mai scappare mamma mia eh no dobbiamo trovare vabbè che trovo che posso giocare murder mystery ma se murder mystery tanto un gioco che dura abbastanza poco ah christmas event l'evento natalizio ma ancora meglio eh vabbè scusate ragazzi vedo ci sono venute e finiamo il video. Questa settimana ne farò uscire pochi, diciamo pochi, perché è meglio in Natale, non lo sapete, non lo sapete perché io iniziamo a fare video quest'anno, voi lo dovete sapere che io il Natale farò pochi video, oggi è il 27 dicembre, infatti non ho portato uno, il 25 dicembre, mi dispiace, comunque ancora tutti i giochi sono Natalizzi, ancora sono tutti i Natalizi, ancora, e quindi non vi preoccupate, i giochi Natalizi ci sono ancora, i giochi sono stati migliorati nella versione Natale, quindi calmi, comunque tutto Natalizio ancora, e posso fare video con voi Natalizi e ovviamente dovrò mettere il video in pausa, e quando ha finito sto caricamento mettere un video perché non posso spiegare dieci minuti di video soltanto... che figata... nooo ma è bellissimo... eh ma quando inizia... eh ma metti in pausa, quando inizia metti in via perché... comunque ci vuole tanto... vabbè ragazzi abbiamo messo la mappa prigione, si è scoperto che prima non stavano facendo una mappa, non dovevo aspettare che caricava una mappa ma stavano già facendo una mappa, allora ci andiamo a nascondere, ovviamente non posso buono, ed è già morto uno, è lui l'assassino quindi scappiamo, ecco l'assassino... quello non è morto ancora... no ma a me piacciono un sacco i passaggi segreti... ma non quelli li ancora non finiti di costruire... come si fa ad uscire da qua? ah no mi sono preso l'infarto... c'è anche un altro passaggio? eh ma... ehm... mi rimetto la visuale normale perché non sto capendo nulla... non posso nascondere qui... non mi si nota... scappiamo via 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 via... scappiamo prima che qualcuno ci... sono preso un infarto... ah! è lui l'assassino! è lui l'assassino! è lui l'assassino! è lui l'assassino! oddio... 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 oh madonna... eh vabbè... oddio... è stato bello giocare finché potete... ah! c'era... ah! c'era... ah! c'è un po' di salire qua sotto eh... per le voci non posso salire... nessuno riuscirà a trovarmi qui... più o meno... c'è un po' di salire qua sotto eh... nooo... nooo! mi ha visto! era l'assassino! io ero qua! non mi ha visto! ma ragazzi ma si può raga... ma si può raga... ma si può... Allora, al frattempo, ok, aspetto, qualcuno di voi mi ha inviato dei messaggi per caso? Allora, il mio canale, ah, ho scritto male, come si chiamava il mio canale? Boh, ho aspettato un attimo. Ok, ragazzi, ho vinto la mappa, infatti sono salito di livello 15. Mi dispiace, non sono riuscito a fare quello che voglio fare. Quello che voglio fare è guardare i vostri commenti. Per peccato, maledizione ragazzi, non ho potuto. E quindi, guarderò i vostri commenti dopo, mi nasconderò, metterò pausa al video, andrò sui commenti e se li trovo mettetevi via il video e li leggerò con voi. Ma ancora non li ho trovati, quindi... Pove noi. Sto a posto a posto a dire. Sto a posto dietro. Un video epic. Si sa già. E pausa, ciao. Ragazzi, ho vinto la mappa, però ho pochi XP, perché mi dispiace ma la mappa l'abbiamo vinta subito. Perché per me l'abbiamo vinta subito, però non molto, perché ero contento di avere più XP, ne abbiamo 16. Non ne volevo vinti, tipo... Vabbè, 20, 9, 1, 5, devo completare tutta la mappa. Sono sceliffo! Ma guardate che casone, che casone! Ma un super mega caso! Eh, ma la mia arma... Ma... Ma... Ma non mi ha dato la pistola! Nooo... Nooo... Ma... Ma... Non ho capito! Un altro sceliffo ho ucciso in Mulder. Ma io ero lo sceliffo, ho sbaglio? Ragazzi, sono completamente confuso e mancano 4 minuti alla fine del video. 5 minuti e 45 secondi, quindi mi dispiose ragazzi. Sono triste di concludere il video qua, però. Eh, suono di non lo sceliffo. O se mi sto sbagliando, ma non lo suono. Chi è la sceliffo? Questo qua mi dà un buon segno, un buon segno di non urlare. Ah, che bello! Ah, no, sono lo sceliffo! Ah! Una cosa! Eh, qualcuno mi ha visto che giù c'ho l'arma, lo suono gioco di urlare di più! Perché quando io sono... Cosa, cavolo? Spiegatemi! Cos'è sta cosa? E' un nascondiglio? Dove ci sta... Stavo per dire dove ci sta il burger, infatti... Non l'ho fatto in tempo a prendere la pistola... Eh, raga, mi dispiace... 2 minuti e 30 secondi e finisco il video qua. Sono molto deluso da questo video perché non ho concluso niente alla fine. L'unica cosa interessante che vi ho detto, che un po' butta roba per voi, è che lo neighbor non ve lo posso portare su questo computer. Mi dispiace, ma non funziona, si blocca, è detto. Cioè fa così. Qua parte, poi si ferma. Poi parte, poi si ferma. Poi parte, poi si ferma. Cioè è lentissimo. Cioè ci mette 10 secondi, sta fermo. Un minuto e poi parte... E... Parte... E funziona per 2 o 3 secondi. Poi... Si blocca per un minuto. Una volta si è bloccata per un'ora. Mi bagga al computer. Mi dispiace, sono passato per l'ultimo posto perché sono il primo che è morto. Devo concludere il video qua. Almeno vado a vedere i commenti, se riesco a trovarli. Ma questo lo cercavo. Royal Revolve 2! Royal Revolve 2! Royal Revolve 2! Royal Revolve 2! Donnie! No! Eh! Non ho fatto tanti io su sto gioco. Royal Revolve 2! Youtube! No, sono la Royal Revolve 2! No, sono la Royal Revolve 2! Allora... Alex! Il mio canale è Alex! Se lo trovo vi faccio sapere, stoppa perché siamo sui guindhi! E quindi ciao ragazzi e ci vediamo in un prossimo video! Eeeeee... Alla prossima! BOOM!